se pensi che la tua vita sia investire nel bene comune per migliorare il futuro aiutare gli altri combattere le ingiustizie restituire il sorriso a chi lo ha perso vivi il tuo futuro da protagonista scegli di diventare maresciallo dei carabinieri se hai compiuto 17 anni e ti stai diplomando consulta l'area concorsi del sito www.carabinieri.it la tua scelta siamo noi